In memoria di Fabrizia Di Lorenzo di Sulmona, morta tragicamente nell'attentato del 19 dicembre 2016 a Berlino, sono state istituite 10 borse di studio per tirocinio formativo, ogni borsa è pari a 1000 euro mensili per la durata di 6 mesi. La scadenza della presentazione delle domande per le borse è fissata per il prossimo 30 giugno. Possono partecipare alla gara per le borsi laureati e laureandi dei corsi di studio dell'Università dell'Aquila che si occupino di tecniche della prevenzione dell'ambiente nei luoghi di lavoro, ingegneria civile e ambientale, ingegneria industriale, lettere, mediazione linguistica e culturale, scienze biologiche, operatore giuridico di impresa, scienze e tecnologie chimiche dei materiali, informatica, matematica, ingegneria edile di architettura, biologia della salute e della nutrizione, ingegneria chimica, ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria elettrica, elettronica, gestionale, informatica e poi ancora ingegneria della matematica, amministrazione, economia e finanza.